Buonasera, bentrovati da Marco Spedo alla Watch & Clock, puntata di oggi 708.6. Quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno contattato, tutte le persone che mi seguono nei suoi commenti su YouTube. Gli ho sempre detto che YouTube ha priorità per quello che mi riguarda, poi anche comunque Whatsapp, le mail. Mi fa molto piacere che la scelta che abbiamo fatto, cioè di parlare un po' di più di quello che è il mondo dell'orogeria e non solo farvi vedere orologi, anche se avviso già che per chi ci segue spesso non è un problema. Per chi non ci segue spesso noi abbiamo durante la settimana le ultime tre trasmissioni. Di conseguenza questa è la puntata 7.8.6, voi avrete possibilità di vedere la 8.5 e l'8.4 turnanti, cioè che girano alternate una all'altra. Random, come dicono, ma quante ne sa lo spesso, va bene. Comunque, quindi siccome ho fatto due puntate dove ho parlato molto, oggi parlerò ma cercherò di far vedere anche un po' di orologi. Se no qui ragazzi, siccome ne ho approfittato perché abbiamo fatto un mese di gennaio buono, buonino, bene febbraio ottimo e il mese di marzo è partito col freno a mano tirato. Quindi abbiamo avuto un po' più di tempo per dedicare la parola al concetto e al discorso orologi in generale e non tanto ai nostri orologi. Quindi oggi ne approfitto perché nelle tre trasmissioni che ruoteranno ci vuole almeno una dove vedete un po' di orologi. E parto subito con, incredibile, raramente, un orologio donna e parto con il Lady. Saluto il mio caro amico che vive in Spagna, che me l'ha portato, me l'ha agevolato. Ragazzi, questo è un orologio con quadrante originale, diamanti, molto importante questo perché esistono gli aftermarket, li chiamano così, sono quadranti che vengono fatti qui e sono quadranti che sono fatti molto bene, ma è aftermarket vuol dire che non è originale, sono quadranti che costano 5-600 Euro, mentre il quadrante originale della Rolex viaggia intorno ai 2000 e passa, 2003-2004. Gli era in oro bianco, il bracciale rigorosamente giubilè, perché dico rigorosamente? Perché la donna che è generalmente per certe cose una marcia in più, ha sempre apprezzato di più il bracciale giubilè rispetto all'oyster. Quando l'uomo, tu facevi vedere il giubilè, te lo bocciava. Oggi, non voglio dire che siamo praticamente all'opposto, ma quasi, il bracciale giubilè è stato apprezzato ed è apprezzato ancora più del passato. Questo è molto interessante il fatto che vi faccio vedere adesso. Vedete questo bollino verde? Questo bollino verde generalmente, considerate che l'orologio ha un 20 anni più o meno, per cui è la prima cosa che se tu lo porti va via. Se c'è su il fondello, vuol dire che l'orologio non l'ha quasi mai messo questa persona. Lo vedete? Vedete la chiusura? Se pensate che io non l'ho neanche mandato in laboratorio, perché l'orologio è praticamente nuovo, la richiesta di questo orologio è 5.000 Euro ed è veramente molto interessante. Subito dopo, sempre un altro lady. Oggi partiamo con la donna, intanto mi dite, ma come mai la donna non la prendi mai in ballo? Io la prendo in ballo, ecco l'ha presa. Allora, questo invece è un acciai oro, sempre lady. C'è da dire, ragazzi, non voglio nascondere il fatto che la donna tendenzialmente oggi porta l'orologio del marito, quindi porta l'orologio sportivo, il sumare, il daitone. Ormai le donne hanno sdoganato questa cosa e va bene. Però ci sono alcune delle nostre partner che hanno il posto piccolo, veramente minuto. E se tu gli metti su uno sportivo, sono ridicole, nel senso che non gli sta neanche su. Ecco perché, bene o male, rimangono legate a queste misure. Ed ecco perché io vi sto facendo vedere l'acciaio oro con quadrante ghigliosce o tappisserie, dipende. L'orologio è con la scatola ma ha la garanzia del negozio. Il prezzo di questo acciaio oro? 3.000 Euro. Altro orologio interessante, sempre donna ma di diametro leggermente superiore, è questo voi. Vedete? Il quadrante qui è smoking dial, lo chiamano. È qualsiasi cosa utile per cercare di vendere una cosa particolare. Guardate che qui sullo schermo il quadrante, dite, ma è così, sembra difettoso, in effetti è virato, ma non so se avete mai preso le foto, certe cose con l'iPhone, vedi dei dettagli che a occhio nudo non vedi. Questo orologio vi garantisco che a occhio nudo tu non lo vedi con queste sfumature chiare e scure. Sembra uniforme, però comunque nel caso è un quadrante champagne. Noi in casa di quanti champagne ne abbiamo e lo mettiamo, non è un problema. È che mi piaceva farvelo vedere con questo quadrante perché è un valore aggiunto. Completo di scatto garanzia, il bracciale giubilè, acciaio oro, 6.000 Euro la richiesta. E adesso vi faccio vedere un bellissimo GMT. GMT, cassa con fori, l'anno di questo orologio è 96, completo di scatola e garanzia. Allora, cosa chiediamo noi di questo orologio? No, scendiamo a 12, chiedevamo a 12,5, scendiamo a 12 perché l'ospedale è attento ai prezzi. Ho visto che generalmente 11,5-12 è il prezzo di vendita. Devete tenere presente, cari signori, che voi siete sempre lì con l'occhio lungo e mi dite Pedro, i tuoi prezzi sono un pelino più alti. Sì, ma tu dalla televisione o dalle foto la qualità non riesci a vederla. Quindi io cerco di dirti, guarda che l'orologio va giudicato anche in base alle condizioni, che non è l'ultima cosa, per quanto mi riguarda è la prima. Quindi le condizioni di questo orologio qua sono veramente ottime, considerando anche che è un orologio che ha, non dico vent'anni, ma sì, non dico vent'anni, non dico venticinque anni, ne ha quasi trenta, va bene, però ha portato veramente bene. Ok, andiamo oltre e abbiamo il Tudor Black Bay. Ecco, questo orologio ha dei dettagli degli orologi vintage. Allora, molti di voi, magari giovani, non sanno per esempio che queste sono le famose lancette Gladio, così chiamate perché richiamano un certo periodo della produzione storica di Rolex. Il coroncione, anche lì richiamano per esempio un submariner che veniva fatto negli anni a cavallo tra il 50 e il 60 e la particolarità, vedete le scritte dorate, ecco, tutto ciò che è nel vintage e che ha le scritte gilt dorate, come viene definito in italiano, hanno un valore che schizza. Con le scritte bianche l'orologio vale 10, con le scritte d'oro vale 30. Molto bene, allora, Black Bay Heritage, scatole garanzia, nuovo completo a 3.800 euro. Mentre lo vedete, anche qui cerco di farvi vedere le condizioni, senza aprirlo perché tanto è veramente perfetto. Ok? E altro oggetto interessante di oggi è il Carrera, questo Carrera è un orologio nuovo, completo di scatola garanzia. Ecco, il Carrera, assieme al Monaco, sono i due orologi leader, ma non lo decido io, lo avete deciso voi pubblico, i due orologi leader dell'Atta Goyer, sono i più richiesti, sono quelli che hanno avuto, come dire, più successo al pubblico, dato dal pubblico e, assieme anche all'Autavia, che però l'Autavia è un orologio storico, è stato rifatto anche, però, ripeto, Monaco, con tutte le varianti e Carrera, sono i top. Il prezzo, 3.500 euro in questo orologio, completo di tutto. Bene, questi erano gli orologi, diciamo, nuovi di oggi e cercheremo di averne sempre di più. Ultimamente il mercato è, voi sapete che è come la borsa, voi vedete il grafico, no? Che sale, scende, sale, scende, sono momenti in cui tu non hai nulla da fare e momenti in cui ti capitano otto persone in simultanea. Non so come mai accada ciò, ma vi garantisco, anche parlando con i colleghi, che mi dicono la stessa roba accade a loro. Se volete, noi acquistiamo orologi, per cui se avete qualcosa da vendere, ci contattate, Whatsapp è la cosa migliore, anche le mail, ci mandate le coordinate, foto, e io risponderò cercando di darvi le indicazioni migliori possibili. Ritornando un po' sulle cose che ho detto nelle altre trasmissioni, mi sono reso conto che le cose che ho detto molte volte possono essere interpretate. È una cosa della quale mi dispiace, perché cerco di dire, di dare le indicazioni sempre più precise possibile. Faccio un esempio. Se voi andate in rete e mettete quali sono gli orologi, perché mi era stato chiesto, Manco, ma perché non dà indicazioni del motivo per il quale un marchio piuttosto che l'altro? Allora, voi oggi avete tanti strumenti che quando ho iniziato a lavorare io non esistevano. Se voi andate su Google e fate la domanda quali sono i marchi migliori? E vi garantisco che tra i primi marchi escono diversi brand, tra cui il primo Omega, cosa strana perché uno direbbe ma non è Rolex. Sì, la vera, però nella mente del pubblico intervistata, random, Omega è il brand più conosciuto con cassa di risonanza. Poi per gli appassionati e per chi è nel mondo degli orologi tutti sanno che il mercato dell'orologeria è fatto al 55-60% da Rolex. Allora tu vedi tutto un elenco e il computer ti dice Omega, poi magari ti dice Zeri, poi ti dice Rolex, poi ti mette tutte cose alla rinfusa. È un po' come quando tu, a me piace fare la pietra di paragone con la borsa perché il broker nella borsa serve per tradurre tutte le informazioni a chi è interessato nella borsa. Lo spedo è il broker che vi serve per tradurre tutto quello che vi può servire se vi avvicinate o se siete già dentro e volete informare nel mondo dell'orologeria. Quando io dico per esempio questo è un orologio più interessante di quest'altro ma per questo motivo e cioè un marchio rapportato e qui entro nello specifico perché Brightling più di Zenith? No, adesso aspetta un attimo, Brightling più di Zenith? No, però Brightling più di un marchio che adesso devo trovare la pietra Girard Perregaux per esempio che è un marchio casa manifatturiera però Brightling è più interessante commercialmente ma non perché lo decido io tecnicamente Girard Perregaux è superiore a Brightling. Nel frattempo regia ogni tanto piuttosto che far vedere me facciamo vedere gli orologi perché così così intanto posso spiegare le cose intanto la gente non ha bisogno di vedermi perché tanto sa che sono sempre molto bello. Allora comunque per quello che riguardava il discorso Già Perregaux Bratti è il pubblico che decite voi che decidete per quanto riguarda il crono il crono è un orologio molto richiesto storicamente ed è rimasto nel tempo richiesto vi avevo già detto il mercato degli orologi meccanici è ripartito con un orologio in particolare che è il cronomat della Brightling ok? Va bene ma questo ne abbiamo già parlato quindi siete voi pubblico che un conto che decidete un po' le cose un conto sono le persone no quel marchio lì mi sembra quell'altro marchio lì poi invece ci sono le realtà e le realtà sono le persone come il sottoscritto che vivono di questo che hanno le indicazioni da che cosa? Dal fatto che io vivo in questo settore da 40 anni dal fatto che parlo tutti i giorni con persone nel negozio con colleghi al telefono e quindi fuori dall'Italia in Italia ho delle indicazioni e l'ho già detto tante volte io ho una posizione privilegiata e cerco di portare tutte le mie informazioni al pubblico in maniera tale che si facciano un'idea di quello che è per gli appassionati ovviamente sto facendo questo ma anche per chi non lo è per avere un'idea di come di cosa fare per esempio in questa fase e qui mi riallaccio a quello che ho detto in passato andate a vedere le trasmissioni a ritroso su YouTube lo potete fare io ho sempre detto ragazzi avete comprato degli orologi avete fatto il vostro tra virgolette investimento bene tenetelo lì aspettate non abbiate timore certo che poi ci sono delle persone che possono essere commercianti che magari hanno comprato non stanno vendendo abbassano i prezzi perché hanno bisogno di liquidità per poter reoperare il commerciante d'altronde compra e vende quindi non ha il guadagno sul discorso dell'oro ha il guadagno sul giro e quindi che il mercato porti gli orologi a cifre più alte o più basse poco conta in linea teorica poi anche in linea pratica ma in linea teorica poi l'importante è che ci sia il giro allora il giro c'è se tu compri le cose con i prezzi attuali che sono in fase di di discesa allora faccio un esempio all'altro giorno e lo faccio perché vorrei tenere un po' non alla larga però far capire a quei signori che comprano gli orologi l'altro giorno compri un sumarino a 41 mm che costa 10,8 di listino se non sbaglio mi sembra 10,8 e 7 una roba così mi chiama mi propone me lo propone a 12.000 e gli dico ma scusa guarda che noi abbiamo una chat anzi io ne ho 6 o 7 chat di commercianti e chat di commercianti in teoria e in pratica servono per avere un'idea di qual è il prezzo di mercato tra commercianti e di conseguenza anche il prezzo che tu puoi acquistare l'orologio per poi rivenderlo ok ora se tu mi proponi un orologio nuovo tendenzialmente io dico sempre ragazzi gli orologi nuovi col sovrapprezzo non presentateli perché tanto non c'è più quello spazio lì siamo già in fase in cui per alcuni modelli siamo già arrivati per chi vende e parlo anche dei concessionari con lo sconto e si ritorna dove eravamo prima della bolla prima di tutto ragazzi c'era il prezzo che è vero che saliva incrementava ma il prezzo poi lo decideva il commerciante perché il commerciante è quello che ha il feedback del mercato non gli esterni perché fino adesso negli ultimi anni sono stati agenti esterni a condizionare il prezzo di mercato mentre adesso come dire ai giorni nostri si sta ritornando a quello che era il mercato quindi tu compri se c'è il prezzo se non c'è il prezzo puoi solo lavorare e l'ho già detto nell'altra trasmissione in conto vendita devo dire che francamente saluto il signore che mi aveva dato per esempio il Nautilus col quadrante bianco e me l'ha dato 6-7 mesi fa e io avevo detto beh insomma 6-7 mesi si dovrebbe poter vendere ma se i prezzi quando me l'ha dato dovevo chiedere 50 e ad oggi che sono passati 6 mesi fai fatica a portare a casa 40-42 capisci bene che no? e nel frattempo ripeto la tendenza è a scendere non a salire dopodiché come dicevo all'inizio se tu non hai esigenze stai a guardare questo è un momento dove aspetti stai a guardare aspetti che il mercato riparta perché prima o poi riparterà quando ripeto non lo so e per quello che riguarda le persone che hanno oggetti molto importanti io ritengo che l'unica cosa che possono fare è o stare fermi o darle a persone come il sottoscritto o quelli che lo fanno come me che lavorano in conto vendita perché io come commerciante se ti devo ritirare l'orologio sto parlando di orologi anche da 30 40 50 mila euro io ti tiro il collo cioè io vado a ribasso non ti tiro il collo perché non è bello sentirselo dire però tiro a ribasso perché perché se i prezzi nell'arco degli ultimi 4 mesi mi continuano ad andare indietro e che faccio o lo compro e lo vendo subito e vabbè ma se io non ho la richiesta e quindi quindi ecco perché io dico se avete pezzi importanti non andate a proporli ma aspettate oppure lasciate a persone operatori broker come sottoscritto i quali operano con la possibilità una bocca di fuoco notevole perché io sono ormai 40 anni nel settore per quello che riguarda la piattaforma sono tutte le piattaforme quelle che riguardano la pubblicità dell'oggetto poi ho diversi contatti con l'estero insomma se lo lasci nel cassetto è più difficile se lo dai a me lo rendo visivo e visibile e quindi è più facile venderlo quindi questa è una cosa che dico perché lo dico nel mio interesse perché comunque noi dobbiamo continuare anche se ripeto è un momento in cui se tu puoi evitare di vendere eviti ma se nelle condizioni dicevo prima devi vendere queste sono le cose migliori che tu puoi fare ci sono persone che vendono anche perché realizzando riescono a fare delle altre investimenti più magari remunerativi interessanti e in quel momento il commerciante lo dico perché molti non ci arrivano tu vai indietro ma se vai avanti su quello dove vai a investire medi non so faccio un esempio in passato mi è capitato di comprare due orologi dove uno l'avevo comprato bene perché c'erano in casa pagato 70 e l'altro pagato 115 qual è la come dire la logica di un commerciante che ti viene li metti insieme sono due 70 75 uno 115 l'altro fa 190 dividi e cerchi di considerarli di averli pagati 2 95 a quel punto il prezzo di vendita 110 ecco che diventi come dire interessante dividi e medi questo è il modo in cui un commerciante cerca di evitare di fare i bagni di sangue e cerca di stare ecco incredibile questo quadrante come qui in televisione sia non bello anzi direi mentre invece comunque fate conto è l'orologio mi è entrato adesso saluto l'amico del smoke and die però è così però però io vi posso dare il quadrante io ce l'ho il quadrante nuovo da mettere su non ho avuto il tempo di farlo lo farò perché a questo punto questo quadrante qua come lo presentiamo qui non mi fa impazzire magari però c'è qualche ricordate che queste cose virate sono un valore aggiunto soprattutto per chi è collezionista questo non è non è collezionismo d'accordo però insomma è un orologio che può piacere vi ricordo e non voglio fare l'incantatore di sapere che questo quadrante qua se lo vedete dal vivo non è così così è inguardabile va bene vai oltre perché l'abbiamo già fatto vedere troppo e e e mi viene mal di testa questo per è la stessa persona che mi ha dato anche questo e questo invece è perfetto quindi è proprio i quadranti virano anche perché nei tempi i fornitori erano diversi eh non come oggi probabilmente la fornitura arriva sempre da da un da un posto dalla stessa fornitura e quindi non c'è quel problema lì ok allora ecco per esempio questo è un bellissimo Vacheron che mi state chiedendo mi avete chiesto ultimamente ricordo i gli acciaio solo tempo sportivi di come dire prestigio sono sono tre come fai a dire spedo che sono tre lo dico in base a quello che è l'esperienza commerciale di 40 anni quindi i soliti Royal Oak Audemars Piguet e Nautilus Patek Philippe dopo quei due lì questo è un orologio che ha sempre avuto prima si chiamava 2-2-2 andate a vedere dopo poi hanno fatto l'overseas e qui hanno fatto le varie versioni sia col quadrante ore arabi col quadrante index ne hanno fatti diversi per cui diciamo che è un intermedio tra i Rolex sportivi e i più richiesti d'acciaio che sono quelli che vi ho detto prima Nautilus e Royal Oak questo è completo di scatola garanzia e il prezzo è 15.000 euro subito dopo abbiamo due Patek che vi faccio vedere che sono gli Aquanaut allora una cosa che ho detto in passato qualcuno mi ha detto ma sei sicuro allora sì sono sicuro Aquanaut è uno dei pochi orologi se non l'unico guardate cosa vi dico che ha avuto un incremento notevole con la bolla e l'ha mantenuto però ho già spiegato tante volte questo è il 51.67 ed è un orologio nuovo completo poi abbiamo anche il Mark I che ha un'altra referenza un po' più piccolo il diametro è un 35 36 ed è il Mark I questo è il Aquanaut il primo Aquanaut prodotto dalla Pateche ha anche il doppio cinturino in squalo blu e vi dicevo questi orologi allora questo intanto è un orologio da da Asta ok Mark I Aquanaut completo di tutto scatto la garanzia noi lo vendiamo intorno ai 40 eh perché ho visto c'è un francese che lo vende a 36 37 poi su Crano 24 e poi tutti gli altri lo vendono a 45 va bene noi siamo intermedi sui 40 però questo di bello posso dirvi qualità top ed è completo di scatto la garanzia dicevo l'Aquanaut rispetto a altri orologi come per esempio il Nautilus di Patec il Nautilus di Patec era un orologio che si vendeva prima della bolla sotto il 50 poi salito e schizzato a 130 a 140 e oggi siamo poco sotto i 100 diciamo nel range tra gli 85 e 95 questo è il prezzo di mercato del Nautilus e vedete che quindi ha avuto come dire la bolla la bolla ha avuto l'attimo di crescita ma poi si è anche ristretto nei valori qui l'Aquanaut no l'Aquanaut è andato intorno subito più o meno intorno ai 60 mila poi siamo in un range attuale tra i 55 e i 60 mila di vendita il motivo è dovuto anche al fatto che me lo dicevano diversi concessionari amici concessionari pateche che la pateche degli Aquano ne consegna 1-2 l'anno e quindi 1-2 l'anno voi considerate che tipo di possibilità di vendita normalmente per questo orologio c'è sempre chi lo chiede per cui il concessionario quando gli arriva ha solo l'imbarazzo di chi darlo poi alcuni alcuni concessionari ci giocano nel senso che te lo danno ma gli devi comprare anche qualcosa d'altro ma questa è un'altra storia che non mi voglio fare nemici e non voglio dire cose delle quali potrei domani essere stato frainteso va bene questo era quello che riguarda il discorso dell'agro e colgo l'occasione per dirvi ecco per chi è appassionato ovvio che queste sono cose banali e normali le sa già a memoria ma per chi si sta avvicinando al mondo della loggeria e con molto piacere posso dire che molti di voi mi hanno detto guarda io ogni tanto guardavo le trasmissioni degli orologi tutti anche molto in maniera distaccata perché devo dire che le tue trasmissioni mi danno un attimino più non so di che cosa perché non è che me la me la canto e me la ballo però mi fa piacere perché trovo interessante quello che tu dici e di conseguenza ecco perché io mi sono come dire ho pensato di fare delle trasmissioni quelle precedenti in modo particolare ma anche oggi dove parlo e spiego un attimino un po' qual è dove sta andando questo mondo dell'ologgeria mi riaggancio un attimino a quello che dicevo delle movimenti e diciamo che ad oggi essendo ormai tutti i pezzi prodotti dalle macchine le macchine bene o male le cose le fanno precise per cui poi si tratta di assemblare il movimento base e da qui avere un'attendibilità da un movimento fatto sì a mano per quello che è l'assemblaggio ma non a mano per quello che riguarda i pezzi quindi sono un po' quasi tutti a un ottimo standard di livello ok cosa da un valore superiore un valore di interesse a voi pubblico un marchio piuttosto che l'altro intanto l'estetica è il brand quindi il marchio diventa importante nel momento in cui importanti sono alcuni orologi e per importanti tendo a dire piaciuti a voi faccio un esempio un marchio che quando li ho li fulmino per cui Jägerlecutre Jägerlecutre ha fatto il reverso d'acciaio il reverso d'acciaio a parte che come orologio di forma intanto gli orologi di forma o piacciono o non piacciono non c'è le via di mezzo ma quando piacciono e sono apprezzati in tutta la sua forma e Jägerlecutre con il reverso è sempre stato un orologio come mai allora Jägerlecutre non altre case che hanno provato a fare il forma per esempio Cartier ha fatto il tank adesso non mi rivengono in mente tanti con l'orologio di forma Tagoyer ha fatto il suo monaco però l'orologio se tu chiunque tu fermi nel mondo dell'orologeria e dici qual è il primo brand che ti viene in mente parlando di orologi di forma Jägerlecutre ok e lo Jägerlecutre nel reverso stiamo parlando di questo il reverso è l'orologio icona quindi anche la Jäger quando ha dovuto un po' sviluppare il brand il marchio la produzione si è appuntato su quello poi hanno fatto tante altre cose i famosi Master Master scusate Master Cartier Master Jägerlecutre c'è tutta una linea Master Date e sono orologi siccome Jäger è anche case manufatturiere sono orologi molto interessanti però quello che sto cercando di farvi capire è che ogni marchio che ha come dire interesse per il pubblico ce l'ha perché il pubblico ha decretato il successo di un modello quindi per Jäger il reverso mi viene in mente Brightin per il Cronomat e tutti i Crono Omega per lo Speedmaster vedete che vi sto dando dei nomi e vi sto dicendo anche l'orologio che ha decretato il successo di questo marchio poi Jägerlecutre Odemar Pichecco Royal Oak andate a vedere praticamente tutta la collezione che è ispirata da Royal Oak è quella che va poi Royal Oak per esempio aveva fatto altre cose alcune belle altre come il Millenary direi un po' meno va bene questo per e quindi adesso non vi sto a fare l'elenco di tutti i marchi e di tutti gli orologi che hanno Cartier per esempio voi sapete i più famosi ma ne hanno fatti tantissimi però i più famosi sono rimasti il Santos il Panther il Tank ok e quelli sono gli orologi per Antonio Maser e Cartier Rolex invece ha sempre avuto il Summariner il Seedweller sono tutti sportivi generalmente gli orologi Daytona sono tutti ok allora tutte queste cose che vi sto dicendo spiegano alle persone che mi dicono ma perché un marchio più torto di un altro perché ormai è lo storico che sostiene quello che un marchio fa chi come ha fatto Rolex per esempio è rimasto sempre fermo nonostante l'ondata come vi raccontavo in passato del Quarzo non ha spostato la produzione sulla produzione Quarzo perché loro hanno sempre fatto il meccanico sì hanno fatto uno o due modelli ma la produzione è sempre rimasta lì quando il meccanico è ripartito ecco che loro avevano il meccanico altri marchi l'ho già letto tante volte Bormessier su tutti perché per me è quello che più mi ha lasciato il segno vedere come era negli anni 80 a Beaumersier e come è oggi e qual è la forbice che c'è tra i due marchi Rolex e Beaumersier voi capite bene che è questo il motivo per cui per cui io dico queste cose e le dico avendole vissuto in prima persona va bene questo è per esempio il TCM TCM è uno storico perché il distributore era il distributore di WC Italia voi sapete negli ultimi 30 anni c'è stata proprio da parte degli svizzeri una scelta fatta a tavolino fatta all'inizio del 2000 e io mi ricordo c'era una fiera di Basilea ero lì ha cominciato Rolex e poi hanno fatto tutti tutti gli altri hanno cominciato a fare a prendere quella strada e cioè quella di cercare di avere meno possibilità di non controllo del prodotto dalla produzione alla vendita al pubblico cosa intendo dire non controllo l'ho già detto tante volte mi viene facile con Rolex io mi ricordo ai tempi tu andavi al ristorante avevi detto non avevi visto e il cameriere veniva e ti diceva un bel orologio le interessa un Daytona questo per dirvi che cosa che c'era il mercato aperto a tutto e a tutti e quindi non c'era una linearità era abbastanza confusionario tant'è che nel nostro mondo si inserivano personaggi che io ho sempre definito ammortizzatori commerciali così definiti perché facevano un lavoro ma poi si erano resi disposti a entrare nel mercato magari avendo delle disponibilità economiche e quindi noi commercianti che compriamo si ritira la merce quando avevi troppe cose cosa fai mica te le mangi fai come quelli dell'abbigliamento che chiamano gli stocchisti e fanno fuori il magazzino e noi è uguale si dava gli orologi ad altri commercianti tanto io molte cose le vendo perché altre cose vendo mi incasso e mi pento questo fa il commerciante normalmente quindi ritorniamo a bomba che mi interessava a dirvi questo era il distributore del marchio IVC e appunto ho parlato di tutto quello che ho detto subito dopo perché i marchi hanno deciso ad oggi e vogliono seguire e vogliono tagliare i concessionari quasi tutti cercano di fare questa strada qua non so se tutti ci riusciranno perché un conto è avere un marchio che ha PIL come Rolex o come Patek che te lo chiedono un conto è avere un marchio che ha come alternative altri marchi e quindi tu vai a vedere sulla base anche quello vi ho detto fanno tutti meccanico più o meno il movimento non c'è una discrepanza pazzesca il marchio viene fatto dallo storico e viene fatto anche da quello che è in grado di fare da un movimento base per esempio se una casa madre è in grado di fare a livello manifatturiero poi le modifiche e quindi avere rattrappanti perpetuali sono cose diverse sono cose che danno prestigio ed è per questo che un certo tipo di case puntano non sul fatturato ma puntano sulla qualità sulla tecnica per poter poi presentare il proprio brand come un brand oltre che di case manifatturiera anche capace di fare prodotti di alta tecnica mi viene in mente già per ego che molti lo snobbano ma ragazzi già per ego sotto il profilo della qualità tecnica è un prodotto pazzesco ci sono tante case per esempio noi in Italia non consideriamo più di tanto marchi come Ebel ma se voi andate a Londra o se andate nei paesi anglosassoni Ebel ha un ottimo appeal allora questo TCM sono tutte indicazioni che questi signori che importavano e distribuivano IWC hanno preso dalla IWC e quindi hanno come dire distribuito questo marchio questo è Sorciverdi è nuovo peraltro scatto la garanzia cosa chiediamo? 2500 euro e il diametro è un 41 se non sbaglio sì va bene andiamo avanti che così intanto parlo anche di orologi perché io poi mi dimentico che ho detto ok facciamo vedere orologi ma allora qui abbiamo il Boy questo è un Boy o un Lady sai che non è un Boy 31 ed è ultima ultima generazione completo di scattole e garanzia 6.900 euro 31 il diametro ricordo che l'orologio Lady Rolex è 26.000 però diciamo che la misura sdoganata in assoluto anche il signore non più giovani 31 è perfetto poi subito dopo il questo è un 16.200 referenza 5 cifre è incompleto ha il quadrante bianco euro romane applicate parciale Oist la richiesta 5.800 euro e poi invece vedete poi 5 referenze questa è la referenza 6 cifre peraltro questa è l'ultima per cui è referenza non 116 ma 126 200 completo di tutto blu a 9.000 euro il Dejast 36 mm guarente bianco e romane applicate anche questo scattole e garanzia bracciale e giubilè tutti questi orologi vi ho fatto vedere zaffero perché perché l'ospedale vi fa vedere solo i vetri zaffero visto che la Rolex faceva anche i vetri esalite i vetri esalite per quello che mi riguarda si prendono in considerazione solo gli sportivi tutti gli altri l'ospedale non lo prende in considerazione perché perché il pubblico che siete voi quando io storica è la coda facevo vedere l'orologio come questo vetro zaffero e l'orologio vetro esalite anche se lo mettevo con 1500 2000 euro di differenza perché sono questi i valori mi comprava questo perché questa era la produzione che più ha incontrato il vetro zaffero è sempre piaciuto di più ok il prezzo di questo 7500 e questa è un'altra occasione che mi serve per dirvi quando io vi dico le cose non è che le dico perché la mattina mi sveglio e dico oggi dirò è perché nell'incedere del negozio 40 anni di attività parlando con la gente e tutto queste sono le indicazioni che io ho e queste sono le indicazioni che io vi do dopo poi se spero che vi possano essere d'aiuto ok andiamo avanti ecco qui Wimbledon questo è un orologio ragazzi ritengo senza problemi che è il più richiesto in assoluto il quadrante questo grigio antracite è piaciuto molto l'abbinamento col verde fa sì che venga definito Wimbledon vi dico che è ancora più bello dal vivo ghiera in oro bianco 41 mm è quello più richiesto addirittura per questo orologio mi sono stati dati in permuta degli sportivi e quando tu io dico questo vuol dire che normalmente lo sportivo è sempre superiore come come impatto verso l'acquirente rispetto a un classico ma questo che è un classico di ultima generazione e che è grande come un summario devo dire che ha avuto tanto successo ok 13.500 euro la richiesta qui abbiamo un riflesso pazzesco Yachtmaster Rollesium Yachtmaster Rollesium è lo sportivo uno dei pochi col quadrante chiaro gli sportivi sono quasi tutti con il quadrante nero Rollesium ha questo quadrante argente completo di scatola la garanzia ed il prezzo è 9.500 euro e intanto che continui a far vedere gli orologi finisco non finisco perché tanto non avrò mai finito di dirvi le cose inerenti a quello che serve per voi per capire o per gli amici che me l'hanno chiesto di spiegare di capire come mai un marchio piuttosto un altro come mai un orologio piuttosto un altro allora vi obbligo è come le puntate di Netflix è un seriale le puntate della Watch and Clock sono dei seriali e vanno messe insieme una con l'altra perché io dico delle cose interessanti in una delle cose interessanti in un'altra tu le metti insieme e hai tutto quel bagaglio di esperienza che io ho di 40 anni che ti può essere utile se sei appassionato serve serve tantissimo se poi vuoi la prova del 9 chiami lo spedo perché magari tu hai capito determinate cose vuoi la conferma chiami lo spedo spedo senti io sto comprando questo questo guardate che ci sono lo dico perché ci sono tante persone che lo fanno e non mi dà fastidio certo se vendo io sarò più contento ma se non vendo io fa niente cioè l'importante è che ci sia questo contatto che può servire comunque per quello che mi riguarda a farmi conoscere poi se nel tempo ecco fermati qua fermati su questo Daytona che il pubblico me lo sta non gli sta dando il giusto peso non dico che me lo state snobbando ma non gli sta dando il giusto peso quindi per finire quello che dicevo prima continuate io continuerò a darvi indicazione e darvi tutto quello che sono le informazioni che io ho parlando con i miei colleghi con 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 tutte le persone che conosco del mondo nel settore qua degli orologi in questa fase per esempio c'è Parma che è una fiera il mercante fiera era una volta una fiera molto interessante per quello che mi riguarda io non la faccio più perché non ho il dono dell'ubiquità quindi non posso essere qui e poi fare anche le fiere nonostante fino al 2006 lo facevo avevo tenevo il negozio aperto c'era chi mi dava una mano e stavo anche in stand alla fiera non faccio più perché non c'è una logica oggi per poter fare questo tipo di code invece per quello che è questo Daytona qua che è referenza 116 523 qui con tutte le referenze la più recente ha un numero inferiore la più comunque questo quadrante è raro allora seguendo le indicazioni che vi ho dato in passato e cioè un oggetto meno pezzi ce ne sono a disposizione questa è vi ho già detto tante volte è scuola vintage se voi avete qualche amico qualcuno che tratta il vintage ditegli queste cose e chiedetegli se sono balle o se è verità ok questo per per un vostro per una vostra conoscenza allora vi dicevo di questo orologio con questo quadrante qua io ne avrò avuti su 50 ne avrò avuti tre che cosa vuol dire questo è stato sfortunato oppure non c'è no non è facile è difficilissimo trovarlo sono quelle cose che poi nel tempo danno un valore raggiunto all'oggetto un po' come il quadrante sultan per i sumari in acciaio oro all'inizio sembrava una roba ma chi è che porta l'orologio con i zafferi o con i rubini poi invece nel tempo siccome su 100 sumari in acciaio oro ce n'è uno col quadrante sultan ecco che diventa una e poi piace perché una volta magari lasciava perplesso ma nel tempo poi si è scoperto che al pubblico piace e se al pubblico piace tutto il resto conta zero l'orologio diventa interessante a PIL e se a PIL c'è la richiesta e da qui il prezzo che sa quindi conseguenza qui questo è un orologio sto dedicando un bel po' di tempo a questo orologio qua perché è il classico orologio che io dico ma come cavolo fa a essere ancora qui io ripeto di quadranti ho sempre detto che il più richiesto in acciaio oro da Itona è la versione col quadrante nero voi sapete gli altri quadranti sono lo jambagne il quadrante bianco va bene il nero ve l'ho appena detto adesso ogni tanto mi è capitato qualche altro quadrante ma erano quadranti messi ad hoc faccio un esempio quadrante blu Da Itona acciaio oro con un quadrante blu lo trovi in oro ma acciaio oro con un quadrante blu è raro difficile ok voi direte ma anche questo no perché questo tutto oro con questo quadrante qua non si è mai visto mentre acciaio oro era nato proprio così con questo quadrante va bene ragazzi cosa chiediamo noi di questo orologio qua 17 18 18 mila euro va bene è qui a vostra disposizione se c'è qualcuno che ha come dire preso in considerazione le mie parole andiamo avanti e vediamo cosa abbiamo qua ah guarda caso abbiamo un sulta non l'ho detto perché sapevo che era subito dopo l'ho detto proprio e lo ripeto lo champagne per esempio molto meno appeal dell'altro quadrante argentè con gli zafferi diamanti come qua ma la cosa che lo rende valido e qui mi riallaccio all'orologio di prima poi virato è che questo quadrante è uno champagne virato se voi fate caso andate a vedere tutti i quadranti champagne normalmente sono color giallo e sparano ed è quella la cosa che non piace al pubblico il fatto che questo ce l'abbia virato e quindi sia quasi non lucido ma opaco rende più vivi gli index che sono poi brillanti e zafferi e quindi il colpo d'occhio finale piace al pubblico però lo dico io me lo dicono anche certe donne perché infatti le donne sono quelle che per primi hanno apprezzato questo genere di quadrante infatti al tempo si diceva vabbè ma lo vendono a donne oggi no tante cose che alle donne sono piaciute e agli uomini non piacevano come ho detto prima il bracciale giubilè ma c'è sempre un perché perché il bracciale giubilè adesso piace se tu prendi un orologio uno sportivo GMT mettiamo che è più facile te lo metti al polso se tu capisci che questo genere di orologi qua più è stretto al polso meglio è poi cominci ad apprezzare qual è il vantaggio del giubilè perché le maglie oyster sono un po' grandi e quindi tu puoi stringere ma fino a un certo punto mentre invece le maglie giubilè che sono piccole puoi andare più sullo stretto rispetto all'oyster e quindi te lo senti meglio al polso anche esteticamente insomma ed è lì e la donna questa cosa evidentemente l'ha apprezzata per primo poi c'è anche da dire che il peso specifico del giubilè e dell'oster cambiano quindi ecco ho dato questa mia indicazione poi se c'è qualcuno che dice Pedro hai detto una cavolata non è vero io sono qua però vi garantisco che le cose che dico le ho anche provate io quando io dico che l'orologio importante va tenuto stretto al polso è perché io storicamente ho sempre visto e io per primo le persone con gli orologi giusti al polso stretti non ballerini l'orologio non ci devi giocare non deve la testa andare avanti indietro da una parte all'altra del polso ok? ecco poi ragazzi io dico delle cose e ci sono persone che mi guardano come se io fossi un pazzo e va bene però io vi ho detto la mia poi ovviamente fate voi quello che volete perché tanto l'orologio è vostro ok andiamo avanti su Mariner 16 610 anche qui ragazzi noi abbiamo sempre chiesto 9,4 ho visto che sono scesi un pochettino siamo sui 9 per cui anche qui l'altro giorno ci sono signori che mi propongono degli orologi e poi mi dicono no ma io al di sotto di questa cifra non vado ma allora se è questo il tuo modus operandi non proporre l'orologio perché in questo momento tu se vuoi vendere non puoi dettare legge non è un momento in cui tu dici voglio vendere voglio prendere quello che dico io il momento è voglio vendere e ti prendi quello che ti offre il mercato quindi il mercato è a ribasso io che devo comprare e ve lo dicevo prima sugli orologi in conto vendita sono degli orologi che mi sono stati dati in conto vendita e nell'arco di 3-4 mesi ho dovuto ribassare il prezzo due volte se l'avessi comprato cosa facevo ok così capite anche perché molti di noi commercianti molti di noi commercianti siamo costretti a a fare e a proporre quello quello che è quello che ci dice il mercato che noi dobbiamo comunque vedere il segno più non c'è possibilità di scelta andiamo avanti già molti dei miei colleghi hanno perso un bel po' di 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 quattrini perché è vero che hanno guadagnato in salita però però poi quando vai indietro fai sempre un po' fatica ecco qui il il mark 1 questo è un mark 1 perché è un voi sapete che il fat 4 è seriale y quello mark 1 ma anche l'f0 rientra nel mark 1 consegnati nel 2003 ok quindi dopo poi diventerà mark 2 nel passaggio successivo ma questa serie qui è la prima serie mark 1 i prezzi variano dalla versione y alla versione f noi qui siamo ancora sulla fase di richiesta perché onestamente i prezzi sono un po' abbastanza in confusione e quindi io l'ho fatto vedere no su richiesta vediamo poi in base a quello va bene ragazzi quindi ricordo comunque tutti gli orologi che noi facciamo vedere sono orologi che noi generalmente acquistiamo dai privati li mandiamo in laboratorio in laboratorio facciamo un controllo li sistemiamo se sono da sistemare li puliamo li cambiamo i cinturini li laviamo ok controlliamo all'interno se sono originale e se non ci sono parti quindi poi la garanzia serve anche per questo ok bene è stato un piacere passare con voi un'ora spero anche per voi alla prossima da Marco Speno e dalla Voce Co buonasera grazie a tutti Voce Clock dal 1989 sempre presente in largo settimio 0-3 traversa di Corso Vercelli veniteci a trovare vi aspettiamo